musica 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 allora signora Fluff invece che signora Puff eccoci qua si signora si signora ma ci trasforma in lumache ma ci trasforma ma ma ah mia 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 allora vediamo modalità lumaca ok x cioè x quindi mi serve per scalare le montagnette davvero ok cioè quindi adesso se vado così non va vabbè guarda anche io cosa mi aspetto ma cado se ah si cioè ogni singola cosa che è in salita io devo smashare x è fantastico sa cosa mi ricorda un po' anche questa musica charlie e la fabbrica di cioccolato quello della ps2 che abbiamo portato sul canale cadiamo ora si c'è qualcosa qui no ci ho sperato però no da capo no per favore no porca miseria so però non l'avrei mai fatto però era un nascondiglio perfetto per mettere una moneta d'oro almeno ok rieccoci nuovamente qui questa volta senza tentativi di vedere se c'è qualcosa di nascosto discesa 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 oh meno male ah tutto qui ci siamo arrivati davvero vabbè oh oh porca miseria mmm perchè questa zona mi sa di boss fight ok ok semplicemente un nemico che devi dividere dividi e ti impera una cavolata semplicissimo come nemico questo c'è qualcosa qui? moneta? forse? non lo so no c'è di nuovo questo ma porca quando è che otterremo quel potenziamento? c'è un cattivo cattivo mi ricorda cosa mi ricorda ma va bene oi dove dove va? ah perchè se l'è mangiata lui ah perchè se l'è mangiata lui beh è tutto confuso non vedo ah ok spongebob jelly pens ok siamo 7500 dove dobbiamo andare? posso uscire? aspetta cosa c'è lì sotto? ah è la spazzatura sembrava la sacca con dentro qualcosa ui fermo dove ci arrivo lì? voglio quella spatola quello spongebob questo ah vabbè ci siamo riusciti in qualche modo arcano ce l'abbiamo fatta questo bottone ok abbiamo acceso una lampadina tutto questo non ci ha avvicinato però alla dicevo non ci ha avvicinato alla spatola dobbiamo aspettare che si girasse ah ma anche se ci vede proprio non ci fa nulla basta stare fermi girati si si ma ti devi girare dall'altra parte levati ancora girati e battene ancora eh vabbè ah ma proprio anche se mi muovono gliene frega niente ah ma allora il travestimento è la cosa perfetta per andare avanti in sta zona ecco qua allora ecco qua ma se io salto mentre loro mi puntano con la luce dite che non lo so è da tentare ecco qua questo era facile facile questo qui ok ne manca solo un'ora ecco fatto ma questo sarà ma si attaccano a me ma levati ok anche l'ultimo bottone andato però però io devo arrivare la sopra prima allora calmi un attimo cosa abbiamo qua di nuovo lo stesso bottone ma porca di quella miseria ah però aspetta vediamo se mmm ok no ci arrivo ci arrivo ammetto che non ci pensavo che ci sarei arrivato ma allora credo oh aspetta ma sandy ah ecco perché la signora fluff e lui cioè lui ha detto signora puff ma in realtà era signora fluff non è che che è l'ultimo che troppo è per Grazie Candy Che tra l'altro Già dalla formula avevo capito Che il nemico era il mostro con la spatola Allora Credo Come faccio a spostare? Devo dargli un colpo Sì, ok Che questo esatto Vada dietro Qui No, forse Aspetta, vediamo Questo qua Ok, perfetto Questo va di qua Ancora uno No, non è vero, è giusto Quindi tu Ancora uno Quasi Quindi Questo va di qua No, è giusto in realtà Quindi in realtà è sbagliato questo Fatto Paura Eh beh certo Andiamo Patrizio Seguiamo le frecce Ecco Ecco fatto Checkpoint Grazie Dicevamo Checkpoint Ecco qua Dobbiamo Andare Avanti Questa zona invece Mi ricorda Ah cacchio Com'è che si chiama La strada per Shell City Appunto nel gioco del film Ma un sacco di cose Mi ricordano La parte del film In realtà Vabbè che questo gioco In teoria è l'ultimo uscito Quindi Ci sta che abbia un po' Di cose Prese anche dagli altri Guarda Non ci conto Però Un pentar Nessuno me lo toglieva Poteva nascondersi benissimo Una moneta Lassopra Ancora con la cosa della lingua Ma esatto Fammi vedere Giusto curiosità Ok posso andare Sulla Sullo slime Anche la cosa Effettivamente Cambi niente Ok non avevo bisogno Di saltare Bastava andargli sopra Perfetto Wow ma Sta sezione Così emozionante Con una musica Wow Iper power Ecco qua Vediamo se Ah Ve lo vedessi Potevo camminarci E via Si prosegue Oh attenti Ma a parte quanto Sono piccoli Sti Si che per un attimo Pensavo di dover Continuare A usare la Come si chiama La lingua In questa zona Forza Provateci Si si Riuscite Ecco fatto Manchi Solamente tu Mi serve Un'abilità Qua però eh Che ancora Che ancora nessuno Mi vuole insegnare Ok dobbiamo Piano piano Risalire Ok sto andando Dalla parte sbagliata Sto andando Dalla parte sbagliata Mi sa Calmo Perché forse posso andare Da entrambe le parti Vero No di qua si prosegue Allora scusami Di qua dove finiamo Ah Tutto qui Cioè bastava Ok Guarda Non mi sorprende Neanche più di niente Dove siamo Siamo dove eravamo Prima Mi sa di si Attenzione Mi sa di si Comunque Eh esatto Anche perché Casa tua L'abbiamo già Rispedita indietro Ecco Qua Ma scusami Gli autobus E' lì volando Guarda Va bene Non facciamo domande Va bene così Ecco qua Eccoli qua Gli autobus Wow Chi l'avrebbe mai visti Aspetta un attimo Grazie Oh Vedi che per una volta Girai dalla parte opposta Serviva qualcosa Non è servita nulla Io ci avrei messo una moneta Ma va bene Lo stesso Eccoci qua Oh Finalmente Fa vedere Credo Esatto Ci manchino solamente Aspetta Ah ok No pensavo che era la moneta Meno male Meglio così In realtà Ed eccoci Arrivati al museo Ovviamente Prima di entrare Giriamolo un attimo Vediamo se c'è qualcosa Ovviamente c'è qualcosa Ma Mi aspettavo qualcosa Di un po' più Sai È comunque un premio Per chi è esplorato Tra l'altro Ogni tanto Si sente anche Il miagolio di un gatto Nella musica Ed eccoci nel museo Oh ma guardate Le barrette Ok Guarda ci speravo Di poterla fare Questa strozzata Quindi immagino Che l'obiettivo Della missione Sia prima A scomparire Tutti questi Ne manca uno Girati Girati No Non ti giri E allora Fatto Ma Allora Ci speravo O ci fosse una moneta Nascosta Non mi aspettavo così Un po' palese Però Grazie Ce ne manca solo una Adesso Per la prossima Sezione di costumi Apriamo La porta Rosso luccicante Aha Ma è davvero Gary? Ah si Erre Gary Ottimo Ah Subito Battaglia Allora Qual è l'obiettivo Della missione? Vabbè Basta schivare No? Ok No Non devo salire Ma Devo tipo Distruggere la macchinetta Ah si In teoria Qua non dovrebbe Prendermi Ora Possiamo salire Avevo ragione Alla fine Dai Stai nascosto Qua dietro Ok Vai 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 Prosegui Prosegui Ma Ah ok Le altre lumache Qualcosa fanno Ah ma ci servono Come ombra Ecco cosa servono Ok Dove è la prossima macchinetta Ok Grazie Della copertura Grazie Ecco fatto Ok vai 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 Si prosegue In teoria qua non mi prende Perfetto Perfetto Corri 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 Intanto che ancora In movimento Vai 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 Ecco fatto Ok qua non dovrebbe Vederci Grazie Grazie Patrizio Vai 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 Ecco fatto Sbrigati Vedo Un paio di mutande Là Forse è meglio Prenderle No ti prego Non da capo Non da capo Ti prego Ok Meno male Vai corri Corri che sta ruttando Ecco fatto Meno male che dietro Attaccato al muro Proprio non ci può prendere Ok Grazie Vai anche all'ultima Ma dai Gary Esatto Non lo so Vediamo Vediamo se Diminuisce Ok intanto Stanno succedendo cose Qui La casa Di Patrick Ah proprio così Ormai Ah proprio Ci possiamo neanche Avvicinare Eh vabbè Ti riporteremo come prima Gary Non ti preoccupare Signora Puffo Spongebob Spongebob There you are I can't believe I'm saying this But I need your help Sentiamo Anything for my favorite teacher This jelly stuff ruined all the good noodle stars I can't reward students without them I need you to get new ones Sì signora Don't you worry Mrs. Puff Your best noodle student will help you in these trying times Thank you Spongebob Uff Grazie a tutti.